Ciao a tutti e oggi voglio parlarvi della mia prima collaborazione perché sono stata contattata su Instagram da questa pagina Gintix, poi ve lo scrivo anche qui sotto per promuovere le loro scarpe, perché loro vendono scarpe in cambio di qualche foto su Instagram e mi avrebbero dato la possibilità di acquistare scarpe con uno sconto ve ne parlo perché ho visto che sul loro sito, gintix.com se chiedete tramite la combinazione di un form di diventare loro ambassador vi permettono di poter acquistare queste scarpe con un notevole sconto e secondo me, vista la qualità di queste scarpe, ne vale la pena al fine basta fare qualche foto, che è anche divertente e si hanno delle ottime scarpe a molto meno prezzo di quello che c'è sul sito perché secondo me, di fatto, sul sito i prezzi sono un pochino alti proprio per questo meccanismo comunque, vi spiego un po' come è andato l'acquisto mi hanno contattata appunto su Instagram io ho visto le loro scarpe e me ne sono innamorata allora, ok, è uno stile un po' particolare come vedete, è uno stile molto gotico e infatti anche molte delle loro ambassador comunque delle foto che girano su Instagram si tratta proprio di ragazze che hanno un look un po' particolare la loro offerta per il momento si ferma a questi modelli qua però già ho visto, per esempio, che ce ne sono alcuni nuovi quindi piano piano si stanno aumentando e io praticamente ho preso queste, le Yanco che poi vi farò vedere anche indossate e in cambio quindi di qualche foto vi permettono comunque di acquistarle a un prezzo basso ora vi faccio vedere le foto che ho postato io sul mio profilo Instagram ho postato questa foto qua che mi piace tantissimo e le scarpe appunto sono queste sì, sono un po' particolari quindi vi deve piacere comunque il genere poi diciamo ho postato questa in cui appunto si vedono un po' in tutte le angolazioni e mi piacciono veramente tantissimo perché secondo me comunque non sono così particolari come potrebbe sembrare e poi immancabile il video con la mia app preferita che è Wearball io adoro questa foto adoro questo video mi piace tantissimo insomma tornando a noi il sito appunto è jeantix.com e mi piace tantissimo a me anche questa immagine gotica perché in fin dei conti a me lo stile gotico dell'abbigliamento del trucco è sempre piaciuto tantissimo anche le scarpe appunto sono piaciute sempre tantissimo perché io lo trovo molto sexy ok, sarò strana però secondo me queste scarpe almeno su un tipo come me non lo so io mi vedo molto più sexy con un tipo di scarpe così piuttosto che con il classico tacco comunque vi spiego un po' della spedizione di tutto allora non dovete avere fretta di ricevere le scarpe perché ci mettono un mese e anche più ad arrivarvi da che le ordinate però non è diciamo una cosa strana perché nei loro termini e condizioni c'è comunque specificato che in base alla zona del mondo in cui si sta ci vogliono più o meno giorni diciamo che ecco appunto per spedire in Italia un mesetto ci vuole tutto perché si sono prodotti praticamente cinesi e io infatti mi aspettavo qualcosa stile quanticlo che sapete non mi è piaciuto particolarmente e una cosa del genere io praticamente alla fine queste scarpe le ho pagate 86 euro senza specie di spedizione non hanno specie di spedizione e me le ha consegnate il postino e non ho avuto quindi nessun tipo di problema di dogana allora diciamo che quando mi è arrivato il pacchetto ero un po' così un po' strana che dico ok ho speso 86 euro e ho ricevuto una fregatura perché mi sono arrivate praticamente così confezionate in questi loro sacchettini senza quindi una scatola erano tutte incelofonate nel plastibor e con lo scotch insomma dentro appunto una busta e quindi quando ho visto questo pacchettino così ho fatto che cosa ci sarà dentro poi però quando l'ho aperto e ho visto ho avuto proprio gli occhi a cuoricino perché erano esattamente le scarpe come sul sito e anche più belle innanzitutto non sono affatto come quelle di Quanticlo che io prendo quelle come riferimento perché più o meno appunto ho quello come riferimento anche se queste appunto sono più costose ma secondo me ne vale la pena quelle sono leggere sono plasticose queste non mi danno assolutamente quell'impressione hanno un bellissimo plateau a vederle così sembrano sì molto molto strane mi piace molto il fatto che abbiano due diversi tipi di pellame ora vabbè non sarà pelle però devo dire che hanno un odore che non è neanche di plastica non sarà pelle pelle però secondo me non è nemmeno plastica non lo so a me non dà l'impressione di essere pura plastica comunque mi piace appunto questo fatto che siano di due diversi tipi di pellame chiamiamolo così che fa appunto questo effetto un po' lucido da una parte un po' poco dall'altra mi piacciono tantissimo queste borchie questi enellini perché le rendono molto aggressive e mi piace il fatto che abbiano la cerniera di lato per cui non bisogna stare sempre ad allacciarle e slacciarle allora secondo me una volta indossate mi sono resa conto che secondo me non sono scarpe che necessariamente debbano essere indossate con un abito o un look comunque particolare perché io li vedo benissimo infatti è un look che voglio diciamo studiare per la primavera con quella specie di calzettoni calzettoni insomma quelli che arrivano fino alla caviglia poco più su di a rete e un vestitino sopra semplicissimo nero magari di quelli che sono stretti fino in vita e poi si allargano secondo me sarà un look bellissimo un altro paio di scarpe che mi piace tantissimo è questo mi piace davvero tantissimo questo hantila perché ha questo pizzo e vedete che ci sono anche bianche e a me sinceramente queste scarpe piacciono tantissimo proprio per questo fatto del pizzo e ho visto sì che infatti esistono anche delle versioni bianche di alcune di queste scarpe un'altra che mi piace tantissimo è questa bonko perché trovo che queste stringhe così dietro so bellissime e mi piacciono anche laci fatti così davanti a me queste sono bellissime e vedete qua c'è tutto il feed da compilare per diventare loro ambassador e devo dire che sono anche sono molto molto veloci a rispondervi io ci ho comunicato sempre su direct e sono stati sempre velocissimi a rispondere e precisi e quindi adesso ve le faccio vedere anche indossate perché sono troppo belle e un'altra cosa importante che voglio dire è che io ho preso il 36 perché con le scarpe chiuse io solitamente porto il 35 tipo dei sandali comunque delle scarpe un po' più estive un po' più aperte ma quando si tratta di prendere le scarpe chiuse così mi oriento sempre sul 36 e mentre con quanticlo ho avuto problemi perché il 36 comunque è piccolo queste corrispondono esattamente al 36 non mi danno nessun tipo di problema sono comodissime e quindi io sono contenta di farvi conoscere questo sito se vi può piacere e questo genere perché ripeto secondo me non è necessario indossarle necessariamente con uno stile gotico comunque con uno stile eccessivo adesso ve le faccio vedere ecco qua le scarpe meravigliose cioè sono davvero comode non sembra sembrano quasi anche pericolose per camminarci ma vi assicuro che sono comodissime ora certo non è che sono fatte per fare percorsi eccessivamente accidentati quello no ma per andare comunque in posti con una pavimentazione normale tranquilla sono veramente bellissime secondo me e io non vedo l'ora di provare a metterle con il vestitino nero che sto cercando con queste calzette perché secondo me le calzette che arrivano fino a qui direte sono bellissime con queste scappe come vedete sono davvero belle a me piacciono tantissimo e soprattutto per chi è magari un pochino basso come me questo tipo di scarpe slancia tantissimo e comunque portarle ovviamente non crea tutti quei disagi o comunque i dolori che provocano i tacchi questo è ovvio quindi fatemi sapere se vi piacciono queste scarpe se le acquisterete se le acquisterete fatemi sapere quali acquisterete sono curiosa e io sono contenta di avervi fatto conoscere questo sito questo brand queste scarpe perché a me piacciono davvero tantissimo e quindi niente volevo parlarvene perché comunque secondo me anche diventare loro ambassador con qualche foto su instagram e avere la possibilità di acquistare queste scarpe con uno sconto notevole vale la pena sono scarpe che non passano inosservate però ecco appunto con un look un po' sobrio secondo me ci stanno tutte quindi io vi ricordo che sottotrovate tutti i link per tutti i miei social compreso instagram dove pubblico quasi tutti i giorni e se vi piace questo video se vi piace il mio canale iscrivetevi attivando anche la campanellina per le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao